delle differenze e delle curiosità sul Natale in UK Boom! Christmas cards! Vengono regalati biglietti di auguri di Natale un po' a tutti La cosa che potrebbe sembrare strana è che vengono regalati anche a chi non si vede molto spesso e si preferisce regalare un biglietto di auguri piuttosto magari di fare una telefonata La gente che a Natale indossa le maglie con enormi babbi Natale o enormi decorazioni a tema natalizio Ragazzi, è vero! È una cosa molto comune che nel periodo natalizio la gente quando va a versi una cosa con gli amici quando esce, quando va in centro, mette questi maglioni a tema natalizio Christmas crackers! Praticamente sono come delle caramellone e vengono messi come segna a posto alle cene di Natale ed è una sorta di gioco Praticamente due persone allo stesso tavolo prendono una per ogni lato, il crackers, e lo tirano A chi rimane la parte più grande in mano si aggiudica il regalo all'interno Quindi c'è una ranocchietta, un bigliettino Solitamente sono degli indovinelli o dei joke La coroncina! Secret Santa! Questo è un gioco che ho scoperto qua da fare con amici o colleghi Bisogna scrivere i nomi di tutte le persone in alcuni fogliettini Chiudere i fogliettini e metterli all'interno di un contenitore Poi a turno ognuno dovrà andare a pescare un fogliettino Ognuno dovrà fare segretamente un regalo alla persona che ha pescato Poi il giorno in cui ci si incontrerà ci si scambierà i regali E si potrà rivelare chi è il Secret Santa di chi Ciao!